Frana ancora il fragile territorio dell'area sud di Salerno. Con la pioggia di questi giorni, fango e detriti sono venuti giù da un fianco del monte Bulgaria. Un crollo veloce, breve ma violentissimo, che ha finito per arrivare a pochi passi dall'abitato di Celle di Bulgaria. Valle Merendola si è trasformata in una colata di fango, che fortunatamente ha trovato una sorta di impluvio naturale alla fine, che ha impedito l'arrivo dei detriti fin proprio al centro del paese. Le prime case però sono state minacciate, tanta paura per chi ha assistito impotente alla frana e si è trovato dissestato il proprio terreno invaso dalla colata di fango e rocce. Ingenti i danni riportati, in particolare ad una strada interpoderale e ai numerosi ulivi presenti in zona nei terreni deprivati. Alcuni sono stati sommersi e sradicati dalla furia del crollo. Non è la prima volta che Valle Merendola e zone limitrofe sono interessate da questi fenomeni, le colate detritiche lungo il Bulgaria stanno diventando sempre più frequenti. Già nel 2015 ci fu una frana simile, ora questa nuova ben più grave che ha peggiorato la situazione. Grande la preoccupazione degli abitanti di Celle di Bulgaria che sorge proprio sotto la montagna e in particolare della frazione Poderia che si trova in una zona più depressa. Si teme in particolare per l'arrivo dell'autunno e per i possibili effetti di piogge più consistenti di quelle di questi giorni. Grazie. 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 Grazie.